Cambia le tende in cucina. Questi sono gli stili vincenti per l'autunno. L'autunno è il momento perfetto per cambiare atmosfera in cucina, usando nuove tende che aggiungono calore e stile. Trasforma la tua cucina con tende kitsch, ispirate agli anni 70, per un tocco di vitalità e personalità. Stile eclettico e mix di colori vivaci rinnovano la cucina con un tocco caldo e avvolgente per l'autunno. Il verde torna protagonista nell'autunno 2024 con tende a strati, donando profondità ed eleganza alla tua cucina.